Ciao ragazzi, allora vi annuncio che sta arrivando il volume 2 del Giacomo Pastorius Complete Study Studio non ho ancora capito, sono passati mesi ma ancora non capisco la pronuncia e quindi tutti i fan di Giacomo come me, tutti quelli che hanno acquistato il volume 1 tutti quelli che hanno fatto donazione per la raccolta di trascrizioni riceveranno un email con un apposito codice nel sedere per chi volesse acquistare anche questo secondo metodo che sarà comunque acquistabile a un prezzo onesto anche per chi non ha preso i precedenti perché ho fatto questo? Perché le richieste da parte di voi colleghi bassisti, musicisti su altri approfondimenti di Giacomo sono continuate anche dopo i primi libri a me ha fatto molto piacere e ne ho approfittato negli ultimi mesi per scrivere questo secondo libro a tutti gli effetti che sarà accompagnato come sempre da video didattici, esempi audio, basi eccetera eccetera cosa ho affrontato? Per lo più ho analizzato e approfondito in maniera più ossessiva possibile il modern electric bass perché a mio avviso è una fonte incredibile di informazioni è una risorsa incredibile per lo studio di Giacomo sia come bassista ma anche per capire tutti i suoi ragionamenti nell'improvvisazione, in come studiava lui eccetera eccetera quindi ho preso esercizio per esercizio, ho aggiunto le tab per chi non mastica molto bene la lettura dello spartito ho fatto dei tutorial su quasi tutti gli esercizi, ho preso la famosa jam in me e tanto altro e tutto quello che mancava un po' nel libro del modern electric bass appunto, il libro allegato quindi questo, poi ho fatto una sezione di esercizi un po' più complessi, sempre in stile Giacomo Giacomo Clichè parte 2 perché è stato il capitolo più, che ha riscosso maggior successo del volume 1 quindi ho fatto un'altra parte 2 diciamo, seguendo lo stesso ragionamento, stessa logica ho aggiunto delle trascrizioni, delle parti di trascrizioni per non violare il copyright e ho fatto altre analisi delle sue linee di basso e composizioni quindi è un libro tutti gli effetti che uscirà in questi giorni sarete avvisati trovate tutto sempre sul mio sito www.igorside.com per qualsiasi cosa, come sempre richieste di approfondimento, richieste di sconti di spedizione, di formato dei libri, in che lingue sarà tradotto eccetera scrivetemi commentatemi qui sotto e fate ciò che ritenete giusto vi aspetto, sperando che vi piaccia anche questo e ringraziandovi enormemente per la fiducia che mi date sempre e per tutti i complimenti che ho ricevuto ci vediamo al prossimo video